La legislatura comunque è aperta, sia pure tra molte incertezze anche relativamente alla sua durata, come gruppi parlamentari quali priorità vi date? E' chiaro che è aperta, ma è in questo momento totalmente gestita da questa commissione speciale che si occupa del DEF, quindi le commissioni parlamentari dove poi si lavora davvero nel quotidiano non sono ancora state formate, perché purtroppo dipendono anche quelle dal governo, ma la commissione speciale sul DEF sta già lavorando e lì noi abbiamo portato i nostri temi soliti, quindi lotta alla povertà con delle misure che possano migliorare la vita di 9 milioni di persone che oggi vivono sotto la soglia di povertà, sicurezza e tutto il comparto del mondo del lavoro che va paradossalmente sia dalle pensioni che alle pensioni. grandi imprese che oggi sono in difficoltà e soprattutto alle piccole e medie imprese che in Italia scappano e chiudono ogni giorno e questo è tutto nel nostro dibattito già in commissione DEF. Soprattutto sui temi ad esempio delle pensioni, sembra che abbiate fatto qualche passo indietro rispetto all'ipositi di formare, di cancellare la Fornero, è vero o no? No, assolutamente, per noi la legge Fornero è una legge che ha creato così tanti di quei danni che va assolutamente superata e abbiamo già detto in campagna elettorale che l'obiettivo è superarla davvero e quindi farlo per scaglioni perché il danno vero di quella legge è che non è neanche quantificabile quanti soldi servono a cancellarla, quindi va per forza fatto un piano progressivo di superamento, noi l'abbiamo messo nel programma elettorale ed è una nostra priorità assoluta. Si è aperto un dibattito abbastanza scatenato sulla rete tra i vostri elettori e tra i vostri sostenitori, sembra che siate più attrattivi come antigovernativi che come filogovernativi, è così o no? No, è evidente che i nostri elettori ma anche i nostri attivisti ricordino bene i disastri fatti da chi è governato negli ultimi anni e in questi disastri ricordano benissimo le opere sia del Partito Democratico che di Forza Italia quando era al governo precedentemente e quindi ovviamente vogliono preservare la nostra capacità di superare tutto questo. Noi stiamo dicendo in modo molto chiaro che infatti il nostro obiettivo è fare un governo su un contratto preciso proprio per far sì che non si possa andare di nuovo a percorrere quelle state sbagliate, è evidente che come abbiamo detto qualunque sia poi questo contratto di governo saranno proprio i nostri elettori, i nostri attivisti che oggi giustamente vogliono dire la loro a votarlo sulla nostra piattaforma digitale e quindi potranno tranquillamente decidere di bocciare quel programma eventualmente. Come spiega le flessioni che si sono avute ad esempio in Molise dove avete subito un arretramento abbastanza forte? Beh no, arretramento non ce n'è stato assolutamente. Dal 44 e 8? Dal 44 paragonare un dato nazionale come un dato regionale lei sa perfettamente che non ha alcun senso perché banalmente alle comunali prendiamo sempre molto meno rispetto alla media nazionale. Il Molise e le elezioni regionali sostanzialmente hanno meno elettori di un comune come Roma quando va al voto e di conseguenza si sono innescate delle dinamiche avendo nuove liste collegate al centro-destra molto legate al candidato di riferimento come succede per i consigli comunali. Comunque abbiamo preso il 38% con il nostro candidato Presidente e il 31% con la lista, quindi perfettamente in linea in realtà sia con le nazionali e con le regionali, rispetto alle regionali precedenti abbiamo fatto un salto di 15 punti percentuali in avanti, quindi io sono molto soddisfatto in realtà di questo risultato, ovviamente parlando della media nazionale che abbiamo preso. Tornando ai risultati elettorali, dalle incertezze e i problemi di governabilità che ne sono usciti, bisognerà rimettere mano alla legge elettorale? Ma questa legge elettorale non l'abbiamo contrastata fin dal primo giorno, siamo stati l'unico partito a votare contro la legge elettorale, perché poi è stata votata favorevolmente sia dalla Lega Nord che da Forza Italia che dal PD e quindi per noi chiaramente andrebbe rifatta, certamente non può essere una priorità in questo momento, mentre si prova a fare un governo chiaramente i temi centrali devono essere quelli che servono agli italiani, dovessimo riuscire a fare un governo, chiaramente la legge elettorale andrebbe cambiata, perché è una legge che non funziona, se non si dovesse fare un governo, lì sarà il grande interrogativo di Mattarella, cambiare la legge elettorale e tornare al voto o tornare al voto senza cambiare la legge elettorale, ma questo chiaramente dipende dalle dinamiche che andranno avanti in questi giorni. Torniamo al DEF, ai temi della politica economica, ai quali aveva fatto cenno anche prima, l'Italia resta sotto i riflettori del Fondo Monetario Internazionale che ci incita ancora a fare riforme e a fare politiche di rigore e la stessa cosa fa anche l'Europa, e allora? Abbiamo detto più volte di essere convinti che l'Unione Europea sia un'opportunità, ma per essere davvero un'opportunità debba cambiare la sua mentalità in chiave proprio di austerità e di riforme necessarie. L'Unione Europea oggi vive una crisi profonda legata soprattutto alla povertà, quindi chiedere a un Paese come l'Italia, con questi numeri che conosciamo bene, i nuovi milioni di poveri, l'occupazione galoppante specialmente al Meridione, di continuare a tagliare significa condannare a suicidio l'Italia e di conseguenza l'Unione Europea, perché noi siamo un Paese fondatore, un Paese fondamentale nelle dinamiche europee, quindi l'Europa deve trovare in noi, secondo me, dovessimo andare al Governo, un partner in grado di consigliarlo nel verso giusto, quindi cambiare queste politiche e puntare in modo deciso l'Unione Europea a affrontare il problema della povertà, che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tanti Paesi, Grecia, Spagna, Portogallo, anche Paesi che sembra che stiano bene, ma in realtà il distacco sociale, il gap sociale tra i più ricchi e i più poveri è sempre maggiore. Affrontiamo questo scenario e risolleveremo anche le sorti dell'Unione Europea probabilmente. Ecco, però poi l'Europa è ancora dominata da egoismi e da tentativi di supremazia, ci sono dei Paesi che contano di più e battono i pugni sul tavolo, si riuscirà a superare questa situazione, questo stallo? I Paesi cosiddetti minori riusciranno ad avere una loro voce o bisognerà assegnarsi ad un'Europa di serie A e una di serie B? No, non bisognerà assegnarsi mai, noi abbiamo tracciato una strada anche nel nostro programma, io mi sono occupato del programma di politica estera dove si parla anche di questo ovviamente, seppure l'Europa poi non sia politica estera, non so la parola, sia politica comunitaria, è evidente che l'asse francotelesco, così diamo anche noi, diciamo alle cose, non sia nato oggi e faccia i suoi interessi, ma questo è evidente, noi dobbiamo provare non solo a inserirci in questo giro di Paesi che determina maggiormente le politiche europee, ma a farlo con una visione multilaterale, quindi far capire all'asse francotelesco che maggiore il benessere diffuso in Unione Europea, migliore è la riuscita di tutta l'Unione Europea e credo che questo sia un argomento che stia penetrando a poco a poco nelle logiche anche tedesche e francesi, non è un caso che Macron parli spesso di lotta alla povertà, la Merkel forse ha un po' meno questo problema, ma anche lei comunque inizia a trattarlo, quindi credo che si possa scardinare questa logica, non perché vogliamo fare un danno alla Francia o alla Germania che sono partner fondamentali, ma perché crediamo che tutta l'Europa possa beneficiare di un arricchimento collettivo dell'Unione Europea. Da qui un anno si voterà per l'Europa, un'Europa che dagli italiani viene percepita massimamente ancora Matrigna, riuscirà a demandarsi nel senso che lei ha auspicato questa Europa oppure si rischia un voto di protesta contro l'Europa? Un anno non è tanto, nel senso che tutta questa cosa che sto auspicando è necessario di tempo sicuramente, noi crediamo che la nascita di movimenti nuovi, con delle visioni politiche innovative, a volte anche considerate magari antisistema, sia in realtà un arricchimento, perché nella diversità c'è sempre qualcosa di positivo da trarre, affrontando queste nuove elezioni e quindi sicuramente cambiando anche le facce dentro il Parlamento Europeo, possa trarne vantaggio e ottenere delle idee innovative che possono migliorarla. È chiaro che poi devono essere dei percorsi costruttivi, noi nel 2014 quando siamo entrati nel Parlamento Europeo con i nostri deputati siamo riusciti a portare dei punti centrali poi nelle dinamiche europee, tant'è che siamo stati premiati con la Vicepresidenza del Parlamento Europeo, che è una quasi anomalia pensare che sia stato dato a un gruppo che era definito antisistema, questo per dimostrare che quando ti impegni e vai nel merito delle cose puoi portare un benessere, un beneficio collettivo, noi ce l'abbiamo fatta e quindi vediamo di buon auspicio l'arrivo di tanti altri magari gruppi un po' più, che svecchino un pochettino il Parlamento Europeo, diciamola così. Facendo una scaletta di priorità, è stata realizzata l'Unione Monetaria, ma l'Europa non è riuscita ad unirsi, a rendersi omogeneo su altri campi, altri settori, su quali bisognerebbe puntare? Stringere subito una coerenza di intenti e anche di legislazione? Fermo, restanto che si va poi nell'ambito della sovranità nazionale, quindi è una materia molto scivolosa, però secondo me bisognerebbe lavorare intanto sulle disparità in termini di fiscalità in Unione Europea, noi viviamo oggi una concorrenza sleale da parte di paesi che sono dentro l'Unione Europea come noi, quindi le nostre imprese delocalizzano, ma non verso fuori l'Unione Europea, ma paradossalmente dentro l'Unione Europea, quindi una concorrenza sleale che va in qualche modo normata, quindi mettendo dei paletti magari. L'altra è la politica estera comune che non abbiamo, noi abbiamo un rappresentante, la Federica Mogherini tra l'altro italiana, della politica estera europea, poi però ogni paese fa un po' come gli pare, con delle distorsioni che abbiamo visto negli anni, dalla Libia fino ad arrivare ora alla Siria. Una politica estera comune ci permetterebbe anche di evitare degli scenari ancora più complessi come le crisi in Medio Oriente ad esempio, ma c'erano tanti gli aspetti, una battaglia comune come l'ho detto già più volte in questa intervista dovrebbe essere quella alla lotta alla povertà ad esempio, bisogna partire da questi aspetti, il mondo del lavoro, quindi fiscalità, vantaggi per le imprese che rimangono nel loro territorio, è una materia tra l'altro molto sentita al nord Italia ad esempio, lotta alla povertà, politica estera comune, secondo me sono degli argomenti che già basterebbero a riempire cinque anni nella prossima legislatura del Parlamento europeo probabilmente. Ecco, come mettere un freno proprio a questi tentativi di accaperramento in materia di delocalizzazione di paesi europei che cercano di rendersi più appetibili rispetto ai partner e di spingere industrie di altri paesi a spostarsi? Intanto noi abbiamo detto in modo chiaro, siamo anche riusciti nel 2014 a far approvare questa norma al Parlamento italiano, che chi prende finanziamenti da parte dello Stato non può andarsene così facilmente come hanno fatto in questi anni, quindi restituisci quello che hai preso e poi fai quello che ti pare perché sei un'azienda privata. L'Europa però deve far sì che il vantaggio sia rimanere nel proprio territorio, quindi paesi come l'Irlanda con una tassazione al 6% diventano non competitivi rispetto all'Italia con una tassazione al 60%, allora mettere dei paletti fiscali, chiaramente non puoi imporre la tassazione, la fiscalità perché chiaramente c'è la solidarietà nazionale su questo tema, però dire secondo gli standard europei tu devi produrre con un costo orario del lavoro non inferiore a questa cifra, noi infatti vogliamo mettere la tariffa oraria minima garantita a 9 Euro, per tutti quelli che non hanno contratto collettivo ovviamente. E anche sulla fiscalità va bene che tu puoi fare delle fiscalità più vantaggiose ma non sotto un certo valore, perché altrimenti è evidente che ti accaparri tutto l'indotto produttivo dei paesi che invece hanno sempre avuto una fiscalità un po' più alta, per ragioni loro, perché voglio dire anche la Germania che invece riesce a mantenere molto le sue aziende ma ha una fiscalità paragonabile a quella italiana, ha altri benefit ovviamente perché produce lì, quindi va normato un po' questo aspetto, rimanendo coscienti del fatto che è una materia molto particolare e molto legata alla sovranità nazionale, quindi con gli occhi ben aperti. La Germania intanto da più di un anno è riuscita a fare proprio quello che le diceva, cioè per stabilire un salario minimo, in Italia andrebbe fatto. Assolutamente sì, noi l'avevamo nel nostro programma, l'abbiamo nel nostro programma per questa legislatura dove si manda al governo, tutti quei contratti, tutti quei lavoratori che non hanno una contratazione collettiva che definisca appunto la paga oraria devono essere portati a 9 Euro ora, o comunque ragionare su queste cifre voglio dire. Questo riuscirebbe anche in qualche modo a contrastare quelle multinazionali o quelle aziende che operano in maniera abbastanza selvaggia, più che liberale per quanto riguarda salario e organizzazioni del lavoro. Sì, secondo me darebbe una mano. Lì poi c'è un altro problema ancora che non è soltanto la paga oraria, è la questione dei diritti del lavoratore. Purtroppo oggi viviamo una distorsione per la quale alcune grandi multinazionali hanno una capacità di far pressione sugli stati maggiore di altri paesi addirittura, perché ovviamente hanno tanti posti di lavoro nelle proprie mani. Bisogna però come Stato avere il coraggio di affrontare queste questioni senza il classico e famoso ricatto occupazionale, quindi prendo coscienza che preservare i diritti è sempre un valore nonostante si possa magari incorrere in delle frizioni con delle società importanti ma che comunque operano sul nostro territorio nazionale. Bisognerebbe anche parlare poi di come queste aziende debbano pagare le tasse sul nostro territorio, perché è un altro dei grandi problemi. Aziende multinazionali spesso hanno fatturati miliardari ma non hanno sostanzialmente una fiscalità nel territorio dove vanno a vendere. Questo crea una concorrenza sleale verso le nostre imprese che invece sul nostro territorio producono, pagano le tasse, pagano i salari e quindi hanno un gap di possibilità reali con la concorrenza, questo va sanato sicuramente. A proposito ancora di salari e diritti, ma di fatto i vostri rapporti con le organizzazioni sindacali, anche quelle tradizionali e più forti restano pressoché assenti, eppure molti vostri iscritti e simpatizzanti sono iscritti a quei sindacati, sbloccherete questo dialogo o no? Ma è anche evidente che stando all'opposizione in questi ultimi 5 anni l'interlocuzione con i sindacati è sempre stata anche una necessità minore, nel senso che è il governo che poi va a contrattare con i sindacati, noi però devo dire che abbiamo avuto al di là delle dichiarazioni ovvie sul fatto che serva a riformare qualcosa in quell'ambito anche, perché poi i sindacati non è sempre che fanno gli interessi dei lavoratori, quindi va anche un pochettino riformato quell'ambiente lì, però abbiamo sempre fatto parte dei tavoli di concertazione con i sindacati in questi anni, difendendo gli interessi dei lavoratori, quindi in qualche modo abbiamo già lavorato fattivamente con i sindacati cercando di portare gli interessi a chi spettavano, i diritti a chi spettavano, quindi io credo che non avremo alcun problema da governo a far funzionare meglio questo meccanismo, avendo anche il ruolo per poterlo fare ovviamente. Un altro tema che si imporrà nelle prossime settimane è certamente quello della migrazione clandestina, un tema che peraltro riguarda anche l'Europa, è arrivata la buona stagione e sono ripresi in massa gli arrivi sia dalla rotta mediterranea sia da quella balcana che è la posizione a riguardo. Riprendono gli attraversamenti del Mediterraneo non tanto solo perché c'è la bella stagione, ma perché quando l'Italia è riuscita a fermare le ondate l'ha fatto pagando il paese che doveva controllarle, la Libia, lo fece Berlusconi con Gheddafi, lo ha fatto sostanzialmente l'Italia di Gentiloni tramite i Minniti con l'attuale non governo libico, chiamiamolo così. E allora bisogna fare un piano strutturale, noi abbiamo proposto più volte di lavorare su accordi intanto sicuramente bilaterali per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere, creare delle vie legali di accesso, cioè definire chi può venire, perché oggi anche il migrante che può venire in realtà deve prendere un barcone, perché non ha una via legale per arrivare da noi e soprattutto far sì che chi decida di partire abbia un'alternativa, quindi che nel suo paese si creino le condizioni per poter rimanere. Lo si fa con la cooperazione internazionale, noi abbiamo un piano sulla cooperazione internazionale molto dettagliato che parte dal rafforzamento anche dei rapporti tra i governi e la lotta alla corruzione nazionale e internazionale, perché in Italia porta allo sfruttamento delle crisi migratorie in ottica mafiosa e in altri paesi, i paesi africani, porta all'arricchimento spesso di presidenti corrotti. Allora bisogna lavorare per far sì che la lotta alla corruzione sia un valore anche nella cooperazione internazionale e nel modo in cui le nostre multinazionali operano in quei territori. È una materia molto complessa, ma secondo me possono arrivare grandi risultati se c'è la volontà politica di realizzarlo. Migranti, nuovi poveri, disoccupazione, voi avete fatto questa proposta forte del reddito di cittadinanza, ma in un paese del nord Europa, la Finlandia, dopo un anno di sperimentazione questa possibilità è stata cancellata, è stata ritenuta non utile o addirittura dannosa, quindi si è tornati un po' ai sostegni, ai sostidi ordinari. Che indicazione viene per lei? Intanto siamo paesi con delle situazioni sociali totalmente differenti, il reddito stesso perché non è stato pensato è totalmente differente, il nostro non è un sussidio alla povertà, il nostro è un meccanismo che riforma completamente i centri per l'impiego, tra l'altro con un finanziamento di 2 miliardi per farli ripartire davvero e che mette in contatto le aziende con chi ha bisogno di lavoro e soprattutto eroga il reddito a fronte alla volontà reale di lavorare, quindi se rifiuti il lavoro per massimo 3 volte perdi il reddito per sempre, quindi c'è una necessità da parte del destinatario del reddito di essere davvero attivo e propositivo, altrimenti lo perde poi, quindi è un meccanismo che se non in Italia può funzionare, ma è ovvio che come tutte le riforme quando vanno fatte poi vanno anche portate avanti, verificate e prendere atto se funziona o non funziona, noi non crediamo che ci siano cose che funzionino a prescindere, ma si può lavorare per vedere come farle funzionare bene.